Benvenuti, siamo con Gianfranco Giulianti, assessore regionale alla protezione civile e candidato al Consiglio Comunale nelle liste del Popolo della Libertà. Benvenuto Giulianti. Lei nei giorni scorsi ha scritto una lettera al ministro della coesione territoriale Barca, l'incaricato speciale del governo Monti, su una vicenda che riguarda gli aquilani, in particolar modo sulle tasse, il bollo, l'IRPEF ed altro. Ci racconta un po' la vicenda? Abbiamo scritto a Barca perché in tutti i decreti che ci sono stati compare un inciso che fa riferimento alla possibilità di usufruire dell'abbattimento che porta alla possibilità di restituire il 40% dilazionato in 120 mesi, ma poi esclude, ed è questo l'inciso solo di riferimento, al netto di quanto versato. Se c'è verificato un caso che in qualche misura sottolinea oggettivamente una disparità di trattamento, quando i cittadini aquilani si sono trovati a decidere se sospendere il pagamento delle tasse e delle imposte o continuarle a versare, evidentemente non sapevano né potevano sapere quello che sarebbe successo circa due anni dopo, e cioè che il governo stabilisse che ci potesse essere una contrazione al 40% e la possibilità di pagare in 10 anni. Questo naturalmente, se si fosse saputo prima, avrebbe comportato scelte diverse da parte di chi hanno invece ritenuto di continuare a versare le imposte, le tasse, l'IRPF e quant'altro. Allora noi chiediamo che questo inciso in un prossimo OPCM venga cancellato, in modo da restituire la possibilità a tutti, in termini paritetici, di poter usufruire di quanto previsto per i cittadini aquilani che invece le avevano sospese. Sì, solo per il bollo auto si paga di circa 100 mila persone. Per il bollo auto si parla di 96 mila targhe, che naturalmente poi non coincidono con le persone perché in ogni famiglia ci possono essere più di un'auto. Si tratta di 15 milioni di euro oltre, che evidentemente abbattuti del 60% comportano una restituzione importante che i cittadini aquilani dovrebbero avere. A questo si aggiunge anche che stiamo completando il calcolo, ma ci sarà anche una sorpresa perché moltissimi pensionati a ridosso del terremoto nell'anno 2009 non hanno avuto la possibilità di scegliere, nel senso che non erano neanche consapevoli di questo tipo di discorso e quindi stiamo scoprendo che ci sono moltissimi pensionati, IMS, IMPDAP eccetera, che sono tra quelli che hanno pagato e continuano a pagare le tasse senza poter contare su questo sconto che è stato riservato all'Aquila per ragioni connesse al terremoto. Si tratta di una battaglia d'equità in pratica. Si tratta di una battaglia d'equità anche perché abbiamo citato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione della sezione tributaria che fa proprio riferimento al fatto che c'è una disparità di trattamento tra cittadini destinatari di uguale tributo e quindi c'è l'elisione dell'articolo 3 della Costituzione e la Suprema Corte ha stabilito che questo non è possibile e ci sono sentenze favorevoli a chi hanno fatto ricorso. Il territorio aquilano, tornando un po' indietro nel tempo, si è misurato con la capacità operativa delle varie protezioni civili regionali italiane che sono state impegnate nell'emergenza post terremoto. Forse anche in base a questa esperienza lei ha avviato una riforma della protezione civile che va in un senso di operatività maggiore. Ce la racconta? Sì, io quando sono arrivato alla protezione civile ho ipotizzato due riforme che ritengo necessarie. Da un lato l'ampliamento territoriale della protezione civile che dovrebbe diventare di aria vasta. È impensabile che, per esempio, come nel caso dell'Abruzzo, con una faglia che non segue identemente i confini amministrativi, ma come nel caso del Reatino scavalla anche nel Frusinate, oppure nel caso del Molise ci sono moltissimi territori a cavallo tra il sud dell'Abruzzo e il nord del Molise. Allora abbiamo ipotizzato intanto di muoverci in un territorio di aria vasta che superi i confini abruzzesi e per fare questo siamo assolutamente determinati a portare avanti una riforma che trasforma la protezione civile da direzione regionale, simile alle altre tante direzioni che ci sono, in un'agenzia che abbia una sua specificità, che al proprio interno possa annoverare professionalità specifiche connesse alle calamità, sia riguardo alla comunicazione, e abbiamo visto all'Aquila che è un dato importante e necessario, ma anche e soprattutto alla immediata operatività. Questo comporta muoversi in un solco che, come chi all'Aquila ha incontrato, per esempio, l'esperienza dell'Emilia Romagna si è potuto rendere conto, è all'avanguardia rispetto, invece, a ciò che è tradizionale e che fa riferimento alle singole regioni. Le sale operative, i centri funzionali sono oggettivamente delle strutture che debbono essere potenziate e questo può essere fatto soltanto se ci si riconnette ad una dimensione altra rispetto alla direzione che è appunto l'Agenzia di protezione civile. Che a scanso di equivoci, voglio precisare, non è omologabile alle diverse agenzie regionali che pure ci sono, perché i componenti di questa agenzia saranno gli attuali dipendenti regionali per la parte che li ha visti specializzarsi nei diversi segmenti che la protezione civile nel tempo ha formato. Penso all'antingendio boschivo, alla possibilità di operare in calamità importanti come il terremoto che c'è stato all'Aquila, ma anche il riferimento a quelle che sono state le recentissime nevicate che hanno visto mobilità tutta Abruzzi, volontari, con una risposta che io credo sia stata di primordia. Sì, per tornare invece alle elezioni aquilane, lo schieramento di centrodestra o dei moderati che der si voglia è diviso in più tronconi. In un eventuale secondo turno, secondo lei, queste coalizioni dovranno riprendere il dialogo nell'ottica del comune avversario del centrosinistra o magari le evoluzioni nazionali che riguardano tanto i centristi quanto il PDL la faranno da parrone e quindi si ragionerà finito il turno amministrativo? Io ritengo che come intelligenza politica vorrebbe rispetto ad un'ipotesi di ballottaggio chiunque risultasse vincitore al primo turno potrebbe creare le condizioni per urlare un accordo complessivo del mondo moderato. Le evoluzioni che pure a livello nazionale ci sono mi sembra ormai a buon punto, hanno come punto di riferimento una scelta di natura inclusiva perché vogliono allargare la base del consenso dell'area moderata e quindi immagino che anche in questo contesto non si potrebbe non accettare la disponibilità del mondo moderato a correre insieme per battere il centrosinistro.